Eccellenze da valorizzare, una tradizione da conservare e prolungare, un circuito da costruire con collegamenti originali e modalità inedite. Sono questi gli obiettivi di MotorWeb Museum, la piattaforma interattiva sviluppata dall'Agenzia Modenese Intersezione per conto della Rete Nazionale Città dei Motori. Un progetto che si concretizza non solo in un grande museo virtuale della tradizione motoristica italiana, ma anche in un mezzo affascinante per integrare l'esperienza del turismo dei motori fondendo reale e virtuale. MotorWeb Museum è una delle più belle azioni di questo progetto della Rete Città dei Motori, patrimonio virtuale dei 26 comuni della Rete, comuni italiani della Rete. Sarà possibile per chi vorrà venire a visitarli sapere che cosa offrono, non soltanto dal punto di vista motoristico, ma anche in generale dell'ospitalità e del territorio, con una indispensabile traduzione anche in inglese per il pubblico internazionale. Un progetto che riguarda l'Italia dei motori non può non avere Maranello come capofila. Non può non esserci perché credo che Maranello raccolga e sintetizzi al proprio interno tutta quella che è l'eccellenza motoristica, tutta quella che è la capacità di fare di tutta la Rete, di tutte le città dei motori che sono in Italia. Maranello significa Ferrari, significa 70 anni di un'azienda che è presente sul nostro territorio e che ha reso i motori, che ha reso l'Italia, che ha reso lo stesso concetto di made in Italy e lo stesso concetto appunto di legame fra un territorio e un prodotto straordinariamente famoso in tutto il mondo. Motori e turismo, un connubio di successo da alimentare attraverso una rete di rimandi e curiosità stimolanti per l'utente. Questo progetto della città dei motori insieme con Maranello, Pontedere e altre realtà nazionali per cercare di far capire quanto è importante il nostro territorio, le produzioni e quanto è importante il turismo e farlo conoscere utilizzando le nuove tecnologie nel contesto internazionale. Quindi è una grande sfida per competere, per creare ancora economia, turismo e quindi opportunità per i nostri territori.